ciao a tutti oggi vediamo un ferretto si chiama proprio così ferretto taglia pellicine si tratta di un oggetto molto comodo fatto da artigiani italiani quindi di alta qualità fatto a mano in acciaio inox temperato sterilizzabile ed è proprio specifico per sollevare e tagliare le pellicine la filatura della parte tagliente è eseguita a mano da una parte c'è una specie di cucchiaio mentre l'altra estremità ha questa v detta anche lingua di vipera che serve per tagliare le pellicine o anche dette cuticole lunghezza totale del ferretto 12 centimetri ciao a tutti e grazie per l'attenzione continuate a seguirci visitate il nostro sito elettronicadidattica.com dove troverete tanti attrezzi per manicure pedicure iscrivetevi anche al nostro canale youtube elettronica didattica ciao a presto